Il Lazio e Civitavecchia passano dal rosso all'arancione. Da martedì, grazie alla diminuzione dell'indice RT, ci sarà quindi una parziale riapertura delle attività commerciali e anche delle scuole, dall'asilo alle medie. Una situazione che però non deve fare abbassare la guardia, visto che nella nostra città i casi sono in costante aumento. Il servizio. Il Lazio torna arancione. Era nell'area da diversi giorni adesso è ufficiale. Anche Civitavecchia ovviamente cambierà colore passando dal rosso all'arancio da martedì in poi, nonostante i positivi in città siano in aumento. Da una settimana circa, infatti, a Civitavecchia si registrano giornalmente almeno 20 casi. Una situazione quindi in controtendenza rispetto alla maggior parte dei comuni della Regione Lazio che, come annunciato dal Ministro alla Salute, Roberto Speranza, ha avuto dei dati in miglioramento e quindi nella cabina di regia e nelle prossime determinazioni non sarà più zona rossa ma arancione e avverrà scadenza naturale dell'ordinanza vigente, quindi da martedì. A determinare il cambio di colore è stata la nuova diminuzione dell'indice RT che torna a 0,99, quindi appena un centesimo sotto la soglia limite di 1, sopra il quale il Lazio sarebbe rimasto rosso. Questo valore permette un allentamento delle misure restrittive rispetto agli ultimi 14 giorni. Nonostante il numero dei contagi, dei morti, dei ricoveri e delle terapie intensive resti ancora alto, è tuttavia stabile. Il tasso di incidenza dei contagi rimane sotto alla soglia dei 250 casi per 100.000 abitanti in 7 giorni. In zona arancione ci si può muovere solo all'interno del proprio comune, tranne che per motivi di salute, lavoro o necessità. Sono consentite le visite nelle abitazioni private per un massimo di due persone non conviventi alla volta, ad esclusione di minori di 14 anni, persone non autosufficienti o disabili. Riapriranno le scuole fino alle medie, barbieri, parrucchieri ed estetisti e i negozi non di prima necessità fino alle ore 21. Aperti anche i centri commerciali ma solo nei giorni feriali, mentre restano chiusi nei prefestivi e festivi, quindi di sabato e domenica. Per quanto riguarda bar, pizzerie, pasticcerie e ristoranti, non potranno aprire al pubblico per il servizio al bancone, oltre che a pranzo e a cena. Resteranno tuttavia aperti per l'asporto fino alle ore 22, la consegna a domicilio senza limiti orari. I bar senza cucina chiudono alle 18. Il coprifuoco è confermato tra le ore 22 e le 5 del giorno seguente. Una notizia sicuramente buona ma che, come diciamo spesso, non deve portare ad abbassare la guardia. A giocare un ruolo importante nell'andamento della pandemia sono infatti i comportamenti delle persone, il rispetto delle regole come indossare la mascherina anche all'aperto e mantenere la distanza di sicurezza evitando assembramenti. Può finalmente entrare nella fase operativa l'accordo tra autorità di sistema portuale del Martirreno, centro settentrionale e comune di Civitavecchia per alcune opere strategiche da realizzare in città. La Giunta Municipale ha infatti approvato lo schema, oggetto nei mesi passati di un crescente scambio di informazioni tra i vari uffici tecnici dei due enti. Quattro gli interventi prioritari ed improcrastinabili. Si tratta del progetto per il consolidamento dell'asse viario e di manutenzione straordinaria della bretela di collegamento porto-interporto dell'8B del progetto esecutivo, lavori di messa in sicurezza della barriera Flangiflutti a protezione dell'anfiteatro della Marina, integrato con intervento di manutenzione dell'adiacente tratto iniziale dell'antemurale. Della riqualificazione del varco fortezza, della progettazione definitiva ed esecutiva, dell'intervento di rifioritura della barriera soffolta e ripascimento della spiaggia della Marina. Dalla viabilità in ingresso al porto, alle opere a difesa della costa, commenta entusiasta il sindaco tedesco, le quattro opere rappresentano tutti degli interventi strategici per la riqualificazione complessiva del tessuto urbano. In particolare con il nuovo aspetto di varco fortezza e più a media scadenza con le opere a difesa della Marina, i civitavecchiesi potranno toccare con mano il progresso nell'integrazione tra porto e città, un'integrazione che continuerà anche in futuro. Ancora una settimana più che ottimale a Civitavecchia sul fronte della qualità dell'aria. I dati forniti nel report periodico diffuso da Arpalazio evidenziano ancora una situazione assolutamente tranquillizzante con i valori dei diversi agenti inquinanti ben al di sotto dei limiti fissati dalla legge. Il servizio. Un'altra settimana coi fiocchi sotto il profilo strettamente ambientale a Civitavecchia. L'ultimo report pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale relativo al periodo compreso tra il 15 e il 21 marzo non si discosta di molto del precedente che era stato tra i migliori in assoluto per quanto attiene la qualità dell'aria. Si è infatti registrata una modestissima crescita dei biossidi di azoto compensata però da un ulteriore calo del particolato di quel PM10 che a fine febbraio aveva preoccupato non poco avendo registrato oltre 30 superamenti nell'arco di soli tre giorni. Quei dati figli legittimi di una situazione atmosferica del tutto particolare non si sono fortunatamente più ripetuti e vengono anzi seguiti da un periodo più che ottimale con tutti gli agenti inquinanti controllati di molto al di sotto dei limiti di legge. Nello specifico per quanto concerne gli ossidi di azoto la centralina di Villa Albani che nella precedente osservazione aveva fatto registrare 26 microgrammi al metro cubo è salita a quota 33 microgrammi. Al porto si è passati da 23 a 33 microgrammi in via Morandi da 33 a 29 in via Roma da 41 a 45. Vale la pena di ricordare che il livello di allarme scatta sopra i 200 microgrammi. Come detto continua la dicesa del particolato ovvero delle polveri. Il PM10 è passato da 15 a 12 microgrammi al metro cubo in centro città da 14 a 10 microgrammi al porto restando a 16 microgrammi a Villa Albani. Stabile il monossido di carbonio misurato in città a 0,4 microgrammi al metro cubo e nella centralina di Fiumaretta a 1 microgrammo al metro cubo. Sempre per quanto riguarda Fiumaretta in leggera salita il dato relativo al benzene è passato da 0,3 a 0,4 microgrammi. Situazione ambientale ottimale ovviamente anche nei quartieri. Per quanto riguarda gli ossidi di azoto il valore più basso è stato rilevato ad Aurelia e Sant'Agostino con soli 5 microgrammi. Seguono Faro e Campo dell'Oro con 12, San Gordiano con 13 e Fiumaretta con 18 microgrammi. Per quanto riguarda il particolato si va dagli 8 microgrammi misurati a Sant'Agostino ai 9 di Aurelia agli 11 del Faro ai 12 di Fiumaretta e San Gordiano per chiudere con i 13 di Campo dell'Oro. Il Partito Democratico di Civitavecchia esprime il proprio sconcerto di fronte alle recenti dichiarazioni del direttore generale del gruppo Enel Carlo Tamburi. Di fronte ad una simile posizione spiegano dal PD che somiglia ad un editto ci sentiamo in dovere di rivendicare se non il primato quantomeno il ruolo della politica. Non lo facciamo certo per noi ma per la città. Il Partito Democratico spiega poi che ha assunto l'iniziativa di coinvolgere gli altri circoli del PD del territorio a nord di Roma. Proponendo un documento ufficiale che ribadisce col massimo della chiarezza la ferma e netta contrarietà del partito a progetti di impianti energetici che puntino alla prosecuzione di produzione di energia elettrica tramite l'utilizzo di combustibili fossili, turbogas compreso. Un'iniziativa per sostenere le persone che sono più in difficoltà è quella che ha ideato il volontariato Promuove la Vita in collaborazione con il Comune di Civitavecchia e la Diocesi Civitavecchia Tarquinia. Lunedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 nel Salone San Giovanni Paolo II che si trova in via Guglielmotti 12 si confezioneranno i panieri per il pranzo di Pasqua. Ma ascoltiamo meglio di cosa si tratta in queste interviste. Anna Battaglini, la Sela De Paulis, il volontariato Promuove la Vita, prova a riempire il paniere del pranzo di Pasqua, della colazione di Pasqua. Ci raccontate la vostra idea? L'idea è nata dopo il grandissimo successo che abbiamo avuto a Natale con le scatole di Natale, dove ne abbiamo raccolte oltre 500 e abbiamo dato soddisfazione a una marea di persone. Per cui poi ci è venuto in mente e proviamo a replicare quest'idea mettendo il paniere, riempiendolo con le tradizionali, le cornie della colazione di Pasqua, senza interferire con le associazioni che distribuiscono il pacco viveri. Ma noi volevamo inserire qualcosa oltre il pacco viveri classico. Il timone, l'APS, è il nostro capofila per questo 2021 e logicamente tutto quello che noi facciamo lo facciamo con la loro collaborazione. Il volontariato Promuove la Vita è il gruppo spontaneo che ci permette di coordinare tante associazioni affinché riusciamo a raggiungere gli obiettivi che sicuramente da soli non sarebbe assolutamente facile. Tutto con praticamente 10 giorni, 15 giorni sulla pagina Facebook che abbiamo creato e siamo riusciti a completare 40 scatole e forse anche qualcosa di più. Soltanto lunedì pomeriggio, grazie a Don Cono, riempiremo questi panieri e venerdì mattina con il furgone del Comune le andremo a consegnare direttamente a casa. Quindi Rossello, oltre 40 le famiglie che beneficeranno del vostro sostegno e qui è una cosa importante, un segnale anche di distensione nel momento particolare con quello che stiamo vivendo. Ma una cosa commovente è la partecipazione, oltre che delle associazioni, dei singoli cittadini. Noi siamo subissate di telefonate per persone che vogliono donare. Quindi questo è un appello alla solidarietà dei cittadini perché ogni giorno non è soltanto Pasqua o Natale, purtroppo. Ci sono poi gli altri giorni dell'anno che queste persone che hanno anche figli, persone anziane e hanno necessità di un supporto, oltre quello che normalmente fanno le istituzioni. Si intitola A pensamale, il nuovo sonetto di Pasquino. Quello dell'anonimo poeta dialettale è un vero e proprio sfogo sui tempi che corrono, dove si ha difficoltà a trovare l'amicizia e dove invece regna la furbizia. Sentiamo. A pensamale se farà peccato, ma quasi sempre se coglie nel segno. Diceva Giulio che ci aveva ingegno e l'Odadi ci ha proprio indovinato. Sempre peggio sto monno è diventato, eppure chi se vuole dà un contegno, in testa poi giuracce c'ha un disegno e fa de tutto per vista avvantaggiato. È finita nel monno l'amicizia, chi t'avvicina te va da una sola, perfino quando pensi alla giustizia senti da vea la tempia una pistola, oramai c'è soltanto la furbizia e non c'è niente più che c'è consola. Ritorno in campo per la Stemar 90 in C-Gold dopo il turno di riposo. Domani alle 18, prima palla 2 ad Ostia per il match contro Alfa Omega. Gli addetti ai lavori indicavano il giallo-blu come cenerentola del gironcino laziale, ma il bel successo sul campo del basket Roma dell'ultima settimana ha rimesso tutto in discussione. La formazione di Ferdinando De Maria vuole bissare il successo arrivato proprio contro il quintetto di Maresca. L'intervista. Alessandro Spada, prima trasferta stagionale per la Stemar 90 che dopo il turno di riposo va ad Ostia a fare visita ad Alfa Omega che sorprendentemente ha vinto nello scorso weekend contro il basket Roma, quindi una gara molto difficile. Si pensava a una squadra quella di Alfa Omega che poteva essere lontana a qualche maniera dalle altre squadre, ma non è così a quanto sembra. Sì, è stata un po' una sorpresa perché appunto ha vinto queste due partite, infatti qua la stiamo preparando bene, stiamo un po' vedendo, è una squadra poi in sacco diversa da noi perché tanti giovani corrono tanto e tutto qua. Una squadra particolare perché alla fine gioca quasi, non dico disinteressata, però gioca comunque sia senza pressione quello che magari hanno le altre squadre, quindi anche questa è una questione da affrontare, poi abbiamo visto la vittoria col buzzer-witter contro basket Roma, è una squadra che sa affrontare bene la zona, quindi è complicato. Esatto, poi magari è proprio questo che vanno là, che sembra che non gliene frega quasi niente, è proprio questo magari che li fa vincere, diciamo questo qua. Da una parte abbiamo visto che basket Roma ha perso due partite, quindi ha perso quota rispetto alle altre concorrenti, però dall'altra abbiamo visto che comunque sia, c'è più equilibrio in questo campionato rispetto a quello che potevamo pensare. Certo, da una parte significa perché comunque è un campionato abbastanza corto, alla fine sono poco più di una decina di partite, però comunque sono molto bravi, una squadra molto forte pure loro, quindi si sapranno rifare sicuramente. Con questo Stavanovanta come sta? Ha fatto bene, ha fatto male il turno di riposo? Vediamo, vedremo domenica, un po' di riposo serviva, comunque i gamberi hanno un po' stanche, quindi dai, diciamo bene. È tempo di esordire anche per la squadra femminile della CV Skating, ovvero le sniperine. Domani alle 11, match casalingo per il quintetto guidato da Riccardo Valentini, che ospiterà al Pala Mercuri le Panthers Velletri. Sono cinque le squadre che prendono parte al campionato, presenti anche Cus Verona, Diavoli Vicenza e Draghi Torino. Obiettivo delle Nere Azzurre è quello di vincere lo Scudetto, che sarebbe il terzo della storia della CV Skating, dopo quelli con l'Under 18 e l'Under 12. Prima di salutarvi vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social Facebook, Youtube, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it www.trcgiornale.it Grazie a tutti.